Unius vani salimonia refetti domine, in festivitate beatorum archerum protassi e cervasi, suppliciter de precabur, ut nos in tua iugiter caritate confirmes, ed in novità devite ambulare concedas per Cristo un domino nostro. Amén. Voglio ridire grazie a tutti, al capitolo, a tutti voi fedeli, ma anche al nostro coro, che credo ha cercato qualche aiuto, perché quest'oggi è stato sempre bravo, ma oggi super bravo. Grazie. Applausi. 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 Ossum impotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Amen.